Abbiamo messo tutto a posto le imbarcazioni, risistemate tutte, riagevolate tutte, pitturate, controllate tutte le attrezzature di pesca e speriamo che ci sia il pesce. Dopo 37 giorni di fermo pesca la notte scorsa le imbarcazioni sono tornate in mare, il blocco delle attività nell'Adriatico era iniziato il primo agosto scorso da Trieste ad Ancona e ieri sera a mezzanotte i marinai hanno lasciato il porto di Fanno non prima dell'ormai tradizionale saluto del sindaco Massimo Seri. È un modo per augurare, fare gli auguri per l'attività dell'anno ma soprattutto sta a significare anche il rapporto che il mare ha con la nostra città, il legame che la città ha anche con il mondo della marineria anche se ovviamente questo comparto rispetto al passato soffre e ha avuto maggiori difficoltà però per noi rimane sempre un punto di riferimento e la vicinanza del sindaco è un po' così l'augurio e il saluto che la città fa alla ripresa dopo il fermo pesca. Messo subito al lavoro con i cesti di ghiaccio il sindaco si è fermato per circa un'ora con i pescatori. Certo che siamo contenti, magari è anche un modo di avere una cosa più sociale, più di accoglimento e ci fa sedire meno duro il lavoro che affrontiamo. Cinque sono le imbarcazioni partite dal porto di Fanno, tra i comandanti c'è chi lavora in mare da una vita come Alessandro Ciavaglia, marinaio da 38 anni, una scelta dovuta alla grande passione per il mestiere nata sin da piccolo. Quando guardava con ammirazione il padre pescatore. Un lavoro complesso, però i mezzi di adesso sono più comodi, ci risparmiano un pochettino la schiena rispetto a 30 anni fa. Ora si sistemano le reti e poi siete pronti? Sì, questa è l'ultima rete che dobbiamo imbarcare, l'imbarchiamo adesso, 10 minuti e siamo pronti, aspettiamo la mezzanotte e poi molliamo gli ormeggi. Queste norme anti-covid vi complicano un po' il lavoro o comunque riuscite ad andare avanti? Sul fatto del lavoro non ci hanno creato grossi problemi, stiamo attenti chiaramente, usiamo le mascherine proprio nei momenti che siamo molto vicini, se no a bordo abbiamo il mezzo è grande quindi abbiamo gli spazi sufficienti per tenerci a distanza. Quanti siete a bordo? Cinque persone, comandante, motorista e tre marenaio. Da quanto tempo lavora in mare? Ah, 42 anni! Non ha mai cambiato mestiere, per quale motivo? E perché mi piace il mare, lo vuole vedere proprio il pesce, basta mi sono stufa a vedere in terra. Il marenaio è così, aspetta sempre quella è la sorpresa della vita. A che ora tornerete? Noi partiamo a mezzanotte di oggi e torniamo intorno alle 1 di domani per scaricare il pesce, poi scarichiamo il pesce e ripartiamo subito fino a mercoledì sera, 48 ore praticamente senza dormire. Che cosa sperate di pescare, cosa si trova? In questo periodo dovrebbe esserci abbondanza di moli che è un pesce bianco e di triglie, lo speriamo anche seppe e canocchie per poter soddisfare tutto il mercato di Fano e dei dintorni. Il mestiere è il più duro del mondo, però mentre voi vedete i delfini e il delfinario, noi ce li abbiamo lì che ci mangiano il pesce quando salpiamo la rete. Le albe e i tramonti, voi andate in spiaggia da ragazzini a vederle, noi le vediamo sempre. Le stelle cadenti, noi siamo i primi che le vediamo. Poi anche il ritorno a casa dopo giorni di duro lavoro e rivedere la famiglia è una cosa bellissima, gli amici e tutti. Grazie.